E parte in questo momento Aurora per affrontare il suo percorso, primo ostacolo le barriere a terra, effettuate bene, barrel molto veloce, molto molto veloce questa mazzone, barrel effettuato molto velocemente, ora al side pass, side pass molto veloce anche questo, buona prova fino ad ora di Aurora, pincello, apertura e chiusura velocissimi e adesso il ponte per lo spostamento dell'oggetto, piccola sbavatura ma Aurora torna indietro e ripete l'esercizio, dopo tutto bene, quadrato, fatto bene velocemente, ora la strettoia, dopodiché affronterà il pole, pole bending, ritorno, abbastanza veloce e precisa nei passaggi sui vari paletti, e ora il galoppio per la fine della sua gara, della sua performance, che finisce in questo momento con il tempo di 77.27. Mettiamo il compito delle penalità per definire il tempo totale, percorso netto, quindi...